Se ci sono ci faccio? Chiaro che ci faccio, non sono proprio capace di stare ferma, figurati che Sky sta realizzando un reality che mi riprende in tutto quello che faccio. È un progetto molto divertente e originale che mi dà la possibilità di esprimere le mie polteplici sfaccettature. A parlare è Valeria Marini che in un'intervista a Tu rivela che sarà la protagonista di un reality di sei puntate in onda su Fox Life da febbraio nel prossimo anno. A proposito della sua vita intima svela di essere innamorata ma non vuole rivelare di chi si tratta. Poi confida al settimanale che Vittorio Cecchigori resta sempre nel suo cuore. Vittorio ha attraversato un brutto periodo, io mi sento di stargli vicino e sostenerlo. Desidero che si riconosca che è un grande, il nostro è dato rapporto importante e sono felice di aver riallacciato con lui un rapporto di amicizia.